Amore. Senti Angela, mi è rimasto questo panno di ieri e io non lo voglio buttare. Di ieri? Sì. E ti faccio vedere come cosa ti faccio mangiare. Ok. Non è che butto la moriglia. La metti qui? La metto qua sì. Devo fare piccolina piccolina. Ma che stai facendo? Ma ti faccio vedere. Va bene, una cosa nuova. Sì, una cosa nuova. Va bene. Allora aspetto. Aspetta che vedrai. Aspetta che vedrai. Allora, mettiamo un fil d'olio qua sta dentro. Nella padella. Ecco. Poi mettiamo questi fettini di pane. Adesso facciamo qua. Facciamo piccolino piccolino. Vedi? Ho questo prosciutto, salame, pancetta, della busta e lo mettiamo dentro. Mettiamo un po' di scanozza. E forse provo la fila. Adesso c'è che ti faccio mangiare? Eh, infatti, sono curiosa. Tutte cose del genere. Infatti, infatti. Lo mettiamo. Lo mettiamo. Lo mettiamo. Lo mettiamo. La dolina, il feve. Il feve. Lo deve mancare. Mai. Lo mangio. E facciamo una bella. L'imbasto. Così deve venire. Ecco qua. Avete questi buchi che abbiamo fatto? Ora rimbiamo. Vedi? Bello. Quanti il pane è duro si può fare? Sì. Non devi buttare niente. Niente. Non si butta niente. Ok. Mettiamo sul fuoco. Mettiamo un altro filo d'olio sopra. Ok. E aspettiamo che si fa un lato e facciamo a quest'altro lato. Ah, è proprio come una fissata, veramente. Ecco qua. Aspettiamo che si fa. Mettiamo le piatte e te lo faccio assaggiare. Va bene, amore mio. Ok. Aspettiamo un poco, un altro poco, poco. Ecco qua, Angela, è pronto? Guarda, tutto si fa, mamma. Sì. E poi, dimmi, poi, bella sostanza. Ah. Sì. Questa l'uovo, tutta la roba di... Salome. Salome. E ci sta il pane. Ecco qua. Provole e provo i dry. Dobbiamo assaggiare? Eh. Nascotta. Allora. Già sono che buono. Ok. Vamo di... Cabo Consolato.